Come comitato ci riteniamo molto soddisfatti, finalmente abbiamo visto la conclusione dell'iter autorizzativo e anche la disponibilità economica per quando riguarda la candereabilità del porto. Quindi a breve inizieranno pure i lavori. Ma come si svilupperanno i lavori che riguardano il porto rifugio? Sì, per delucidare un po' il progetto parliamo dell'allungamento del braccio di Ponente, dell'escavazione totale a 4 metri e mezzo, di una frangivento che garantisca che non si zabbia più il porto, ci sarà la rimozione della New Rose e quindi la fruibilità totale del porto rifugio. Adesso finalmente possiamo parlare di un progetto che potrebbe realmente partire a Dragna. No, io non dico potrebbe, io dico partirà perché ne siamo convinti, siamo certi della rassicurazione avuta ieri e speriamo che da qui a fine anno, perché i tempi tecnici saranno non credo non meno di un semestre, vedremo finalmente la Draga a scavare e vedremo finalmente un po' di luce per la nostra città che ha bisogno di risorse come il porto, di tutto quello che possa essere e portare benessere alla nostra città come un porto fluibile tranquillamente, quindi turismo e quant'altro. Dunque si potrebbe muovere un'intera economia? È ovvio, tutte le città che hanno il mare non avendo un porto l'economia è morta, abbiamo un esempio vicinissimo Licata, Licata si è ripresa l'economia in maniera esponenziale, quindi speriamo che anche Gela avremo finalmente questo porto e quindi rivedere la nostra vecchia economia come era prima.